Il fischio di Di Graci, può partire, stoppa, palla interessante nel mezzo, il colpo di testa! E il gol di Tonucci, terzo tempo perfetto, palla in angolino, impossibile arrivarci per Branduani, minuto 11 del primo tempo, passa la... La fisicità per riuscire a guadagnarsi un calcio di punizione, altrimenti... Bello il tocco di Van de Putt per Biasci, che trova l'1-1! No, gran giocata del numero 28, bravo col destro a saltare l'uomo secco e poi a depositare in rete, il gol dell'1-1! Che giocata, giocata di qualità, di bene!